vicini 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 inizio di qua parliamo a stare in branco curate le piante spuntano le radici c'ho preso una pallina fatte dietro radici c'è ancora una boss andiamo sotto le radici adesso prima c'è da schivare e raccogliere le palline e poi torniamo dentro qui dentro smi pronto bella add la carica tra 4 secondi curate le piantine c'è una pallina da perso dietro il boss fa spuntare le radici tra 5 e 4 curate le piante ok spuntano le radici picchiate le radici ok 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 occhio che curate le radici gioco fa l'ultima carica poi devi correre sotto curate le radici dentro cresa Beppe dentro eroism occhio che parla subito darkness nico vi spostate state vicini sto io si ce l'è qui comunque il 6% soc 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 faccio io questo qua dietro il boss soc 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 sono da fare tutti e poi è morto il boss facciamo soc Ma per che è? Cosa? Ah no, ho visto la grafica che l'ha sparato sul gruppo Ok ころ è già Sotto Wave prima La